Vinitaly 2024, siamo in Alta Langa con Cocchi, Giulio Bava ci presenta una bella novità. Noi facciamo Alta Langa fin da quando è nata la DOCG e quest'anno per la prima volta facciamo assaggiare la nostra produzione bio. Una QV di Alta Langa, millesimato 2019, fatta da Pino Nero per il 50% e Chardonnay 50%. Sono due vigne contigue coltivate con il metodo biologico. La filosofia dell'Alta Langa non cambia quindi ma si rafforza. L'Alta Langa per noi è un prodotto che deve essere molto sostenibile come tutti i nostri vini. Il bio è la ricerca di possibilità di coltivazione biologica in Alta Langa dove le situazioni ambientali non sempre lo permettono. Abbiamo voluto sperimentare e cercare il luogo migliore per farlo. A livello di business, bollicine più verso l'Italia o anche verso l'export? Le bollicine di Alta Langa si vendono in Italia. La produzione è ancora abbastanza limitata nei numeri. Parlo della produzione globale di Alta Langa. L'ultima vendemmia mi pare che si siano prodotte 3 milioni e mezzo di bottiglie. Quindi il mercato non può essere quello globale per il momento. L'Italia e il nord Italia sono i mercati principali.